Podcast e Web Radio. Cosa differenzia questi due strumenti così simili e come posso utilizzarli per il mio business o per promuovere un progetto? Io sono Cristian Tava, mi occupo di comunicazione social e di formazione. Mi piace mostrare il lato umano della comunicazione e della relazione tra le persone. Parliamo ancora di podcast anche oggi in questa terza puntata. Proviamo a partire dalle singole definizioni, il podcast. Il podcast è una trasmissione audio registrata online, scaricabile o ascoltabile attraverso sistemi di distribuzione chiamati RSS. L'RSS non è altro che una stringa di codice che viene interpretato da sistemi appositi che non abbiamo bisogno di comprendere. Ci basta solo sapere che un RSS è un indirizzo web, un po' come se fosse un sito. HTTP, due punti, slash, slash. Questa stringa all viene inserito all'interno di altri siti, come se fosse una specie di gancio e viene aggiornato facilmente dalla piattaforma di base che trasmette come un emittente su quelle agganciate. Noi non dobbiamo fare assolutamente nulla, quindi è molto comodo. Viene utilizzato per diffondere normalmente le news. La web radio invece, la definizione ufficiale di web radio, è una trasmissione audio che mira a creare continuità nella giornata, contenuti che si susseguono nel tempo in cui inserire a piacimento musica, talk o altro. Occorre avere un palinsesto, un'organizzazione un po' più strutturata. Vediamo di capire meglio cosa dice la normativa, perché all'interno della web radio ci sono tre divisioni fondamentali. In realtà sono solo due. La terza è un po' più definita. Web radio commerciali, web radio non commerciali. Può sembrare banale, ma fa molta differenza in termini sia economici che pratici. Tutte le web radio non commerciali non possono in alcun modo assolutamente guadagnare niente, neanche un euro. Non possono avere nessun tipo di provento. Quindi si basano veramente sulla volontà delle persone di creare un progetto di comunicazione ben strutturato, per un motivo ben definito. Chi potrebbe avere questo tipo di interesse, secondo te? Vediamo un po'. Ragionando mi viene a pensare associazioni, partiti, comitati, gruppi di vario tipo, ma anche un privato che voglia utilizzarlo per far conoscere la propria attività di comunicatore. Esatto, può diventare essa stessa, la web radio, un strumento utile a farsi conoscere e creare autorevolezza. Direi che è un ottimo strumento, un ottimo esercizio di personal branding avanzato. Per fare una nuova web radio non occorre moltissima attrezzatura dedicata. Ho stimato che più o meno con 5-600 euro di spesa possiamo dar vita al nostro progetto di comunicazione, almeno come attrezzatura. Per fare il podcaster ne bastano 150, un buon microfono, ma la web radio ha bisogno di alcuni componenti. Te li elenco così magari poi li puoi cercare anche su Amazon volendo. Un mixer, una cuffia di buona qualità, uno o due microfoni, una scheda audio esterna, un programma di gestione del parincesto, ti consiglio di provare Radio DJ, se fai una ricerca lo riesci a trovare su Google, un abbonamento a un servizio streaming. Radio DJ è un software free, completamente gratuito, che ti fa gestire il parincesto della web radio, può essere molto utile. La stessa attrezzatura di base è quello che ti serve per la web radio commerciale, con la differenza che in questo caso avrai una serie di incombenze legali e amministrative ma anche pratiche da mettere a punto. Come primo requisito devi essere oppure avere un direttore responsabile, occorre essere giornalisti o pubblicisti, serve un vice direttore, iscriversi alla CIA, il costo è indicativamente sui 200 euro al mese, versare una quota per ogni brano commerciale che farai ascoltare, a meno che non opti per brani senza copyright e pagare una tassa sulla pubblicità. Come vedi l'impegno economico diventa più oneroso e anche il tempo e le energie che devi dedicare a un progetto del genere sono decisamente più importanti, difficilmente riuscirai a fare un progetto di questo tipo da solo. Deve esserci un lavoro di gruppo per crescere un progetto come questo, oppure essere parte di un lavoro che fai comunicazione per un cliente. Cerchiamo di capire quando vale la pena realizzare un progetto come questo al posto di fare un podcast. Alcune ipotesi che mi vengono in mente riguardano il fatto di essere sicuri di aver trovato una nicchia di mercato, oppure degli utenti interessati a una soluzione di questo tipo. Quindi creerai un progetto verticale, ovvero un monto settoriale utilizzando questa soluzione. Ti faccio un esempio concreto. Siete un gruppo di persone amanti dei cani e decide di realizzare una web radio che parlerà del mondo cinofilo e di tutti i suoi aspetti. Interviste, testimonianze, ospiti, veterinari per consigli pratici, addestratori che daranno indicazioni, eccetera, eccetera. E come intermezzo un po' di musica, volendo, ma non è obbligatorio. Ovviamente in una radio come questa non devono mancare le promozioni aziendali dei produttori di biscottini, collarini, cappottini, che saranno, immagino, disposti a pagare uno spazio pubblicitario, ma a patto che siete stati bravi a creare una bella community di persone che vi segue. Altra possibilità interessante nel caso in cui ti occupi di comunicazione è quella di proporre ad un tuo cliente, che ha una catena di negozi, di creare una propria comunicazione interna usando la voce. Un palinsesto efficace che sia di intrattenimento ma anche di promozione dei prodotti e dei servizi che il tuo cliente propone. Una catena di centri estetici o di parrucchieri, dove le persone si aggiornano per diverso tempo, sarebbe l'ideale, oppure bar o qualcosa di simile. Come vedi le idee non mancano e sono sicuro che te ne siano venute altre. Ma non sottovalutare la potenza di un strumento come questo, anche perché non avendo un vero prezzo di mercato, in realtà potrai personalizzare questo tipo di servizio a seconda della richiesta del tuo cliente e decidere tu il prezzo, avendo poi anche delle buone marginalità su un lavoro così. Non dico che sia un lavoro facile, non tutt'altro, ma di sicuro è un lavoro originale e pieno di possibilità di crescita da integrare, inutile dirte, con tutti gli altri strumenti dei social che hai a disposizione. Spero di aver ti dato qualche spunto su cui riflettere in merito alla web radio e anche il podcast. Questo è il mio podcast di oggi, se vuoi avere altre informazioni sulla web radio o trovi interessante questo progetto, scrivimi o contattami sui miei canali social, come al solito. Ah, dimenticavo, sto preparando un'intervista proprio ad un amico che ha fatto della radio, della web radio in questo caso, la sua vita è presto, cercherò di pubblicarlo su questo canale. Mi raccomando, continua a seguirmi perché sarà molto interessante, è una persona molto curiosa. Ti aspetto nel prossimo episodio, alla prossima, ciao!